Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta della stella, amici del Capricorno. Potrebbe essere un periodo per nuovi obiettivi, nuovi traguardi, nuove idee. È una carta che parla di sogni, che parla anche di canalizzazioni, di tutto quello che è il mondo artistico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona se nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo e me nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Comunque io tutte le novità le inserisco sempre nella descrizione del video e voi aprite la tendina e insomma poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi contattate via mail. D'accordo, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con la carta della forza. Abbiamo l'imperatore. Il mago. Tutti arcani maggiori, ragazzi. Un altro arcano maggiore, il matto. Abbiamo un 5 di coppe. Asso di bastoni, 3 di coppe e 3 di bastoni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi spot sciolti. Dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi single, non single, lavoro, economia, tutto quanto. Allora, partiamo dalla carta della forza, ragazzi. E' una carta che sento come se denotasse una certa apertura da parte vostra, ma anche una certa forza, una certa sostanza, una certa colonna vertebrale. E' un momento, diciamo, positivo. Andiamo a vederla. Abbiamo il sole. E' un 8 di coppe. Può essere che non ci sia molta chiarezza mentale, che ci sia come bisogno di andare oltre e questa forza potrebbe fare riferimento al fatto che stiate sforzandovi di andare avanti nonostante la poca chiarezza mentale di cui mi parla il sole in questo caso. Allora, andiamo a vedere l'imperatore. Perché l'imperatore è una carta di stabilità comunque, anche di regole. Allora, abbiamo un bel cavaliere di coppe e un 10 di spade. Voglio andare a vedere anche il mago. Abbiamo la morte e un 7 di spade. Il matto per piacere grazie. Regina di coppe. E 10 di coppe. Allora, potrebbe esserci qualche comunicazione, potrebbe esserci come un nuovo inizio intorno a voi, considerato questo mago. Qui abbiamo un 10 di spade e una morte al contrario. Credo che ci si avvicini alla chiusura di un ciclo per iniziarne uno nuovo. Molto ha a che vedere con il settore familiare o con qualche figlio. Andiamo a vedere anche il 5 di coppe. Regina di spade. Regina di spade. Asso di denari. E imperatrice. Qui avete anche l'imperatore. Come ve le metto? Vi dico, abbiate anche questo asso di pentacoli. Sento che è come vicino un nuovo inizio. È come se ci fossero dei tagli da fare. Qualcuno sta valutando cosa vale la pena lasciare indietro e che cosa no. Sento come questa apertura nei confronti del nuovo. Adesso andiamo a vedere l'asso di bastoni. Che comunque è una carta che parla di azione. Wow! Abbiamo anche un mondo. E' un cavaliere di bastoni. Quindi un altro asso, un'altra carta che mi indica un nuovo inizio. Credo che qui si stiano sia come un preludio per la definizione dei prossimi obiettivi. Capricorno. Probabilmente novembre è un mese più dedicato ai tagli. Più dedicato alle chiusure. Alle chiusure di vecchie situazioni. Ma anche all'apertura. Perché avete tanti assi. Avete il matto, avete il mago. Quindi sento che c'è come un andare oltre. Aprirsi a quello che potrebbe essere il nuovo. Chiaro. C'è anche un 5 di coppe. Qualche cosa bisognerà pur lasciare indietro. Andiamo a vedere un 3 di coppe. 4 di pentacoli e regina di pentacoli. Sì, denota una certa abbondanza questo gruppo di carte. Una certa anche condivisione con amici, con persone a voi care. Quindi è come se potrebbe essere anche un'inaugurazione per qualcuno. Piuttosto che il raggiungimento di qualche obiettivo. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 10 di bastoni e fante. Di nuovo un altro 10. E un fante che è una carta come di inizio. Sì, secondo me è una fase più dove vi schiarirete le idee inerente a quello che è questo nuovo inizio. Andiamo a vedere settore per settore. Per quello che riguarda i single, devo dire ragazzi che qui c'è aria di novità. Potreste conoscere una persona davvero stabile, di un certo spessore sia mentale che emotivo e potrebbe iniziare una storia per adesso, direi anche con parecchia chimica. Se siete in una relazione, sento che il mese di novembre è un mese di stabilità, è un mese di tranquillità. Anche qui potrebbe esserci una particolare comunicazione, una notizia, un tema che viene tirato fuori che potrebbe dare, come dire, il passo a un nuovo capitolo all'interno della relazione. Come se si aprissero nuovi obiettivi, effettivamente avete la stella. Se siete in una relazione, diciamo, non ben definita, e mi spiegherei la poca chiarezza mentale, devo dire che a novembre le cose inizieranno con un piede diverso. C'è come questo venirvi incontro da parte dell'altra persona. Per quello che riguarda, diciamo, le persone intorno a voi, che possono essere gli amici, gli affetti, i familiari, i vicini. Allora, come ve lo posso dire? C'è un qualche tema che probabilmente potrebbe aver bisogno di qualche aggiustamento, di qualche lavoro attivo da parte vostra all'interno della relazione che avete con questa persona. Non riesco a definirvi che categoria posso essere, se amici, vicini o familiari, però comunque, diciamo, nelle persone intorno a voi, sento come aria di novità, nel bene e nel male, mettiamola così, ok? Può essere qualcosa di positivo, ma potrebbe anche essere qualche cosa, insomma, che non vi piace tanto. Tutto sommato, niente di che, cioè niente di preoccupante. Parliamo, parliamo di lavoro. Allora, se siete senza lavoro, io qui sento che qualche cosa effettivamente di nuovo potrebbe iniziare, avete un sacco di assi. E' vero che avete un imperatore, però non credo che siano contratti proprio di lungo, lungo periodo. Potrebbero essere massimo, massimo tre mesi, secondo me. Però comunque qualche cosa si muove, si va verso una situazione migliore rispetto a quella in cui siete adesso. Se siete dipendenti, ragazzi, allora qui fate attenzione a certe dinamiche di comportamento nei confronti dei vostri colleghi o dei vostri superiori legate alla paura di essere rifiutati o di non essere accettati. Cioè, se pensate che sia importante far valere un vostro diritto, non taccete per paura che vi rifiutino. Cioè, tanto il no ce lo avete già, no? Non chiedendo niente è come se vi avessero risposto di no. Tanto vale tentare. Magari con i giusti modi, con garbo, però... Comunque, devo dire che per qualcuno potrebbe esserci una persona che potrebbe essere appunto un vostro superiore in grado, diciamo, di aiutarvi in questo momento. Vi sento molto vicino a una persona a livello lavorativo nel mese di novembre. Perché invece è autonomo? Allora, io devo dire che qui, anche per voi, ci sono dei nuovi inizi. Ci sono potenzialmente anche delle nuove collaborazioni. Tenete presente che comunque si parte con questo solo al contrario. Mettete nero su bianco le regole del gioco. Perché è importante definire i ruoli, gli spazi, i tempi. Tutto sommato, devo dire che per tutte e tre le categorie si va verso una situazione migliore rispetto a quella da cui arrivate. Se parliamo di progetti... Allora, qui ci può essere per qualcuno, soprattutto se siete in coppia, come questo tema di cui vi parlavo prima da affrontare che potrebbe ricordare i bambini. Sento che per molti l'obiettivo è creare una famiglia, creare un'unione stabile, creare un'unione, diciamo, in luce. E ci potrebbe essere questo tema da dover affrontare. Che non dico che sia il... Ok, vogliamo creare una famiglia insieme o no? Piuttosto il che cosa ne pensi di? Perché per molti non è ancora chiaro. C'è come questo tema un po' pesante, un po' spesso, che potrebbe... che potrebbe venire alla luce. Se invece avete già figli, devo dire che tutto sommato, ragazzi, lo vedo un mese roseo, pieno di amore, di unione, di speranza. C'è anche un 3 di coppe, è una carta di forte condivisione. Poi... Parliamo di denaro. Ah no, scusate. Se per caso non sono i figli, sapete che nei tarocchi la parola figlia e la parola progetti possono essere interscambiabili, devo dire che se avete un progetto già in atto, sento che le cose sono piuttosto tranquille, piuttosto lineari. Se invece si tratta di un nuovo progetto, sento che è un buon momento per far partire questo nuovo progetto. Anche perché qui, ripeto, avete diversi assi, avete il mago, avete il matto, c'è come un terreno fecondo per far partire qualcosa. Se però non avete ancora bene le idee chiare, con la regina di spade vi consigliano di fare un piano. Tempi, spazio e responsabilità, insomma, obiettivi. Sapete dividere il risultato per obiettivi. È come se avessi bisogno di un piano di lavoro, di un piano d'attacco. Perché la forza e la volontà c'è. E poi avete anche questo asso di bastoni che mi indica proprio questa decisione, questa volontà di andare avanti, questa azione che voglio fare. Andiamo ai soldi. Allora, per quello che riguarda i soldi devo dire che sento come del movimento dirvi perché effettivamente un asso di denari ce l'avete. Quindi ci potrebbe essere qualche nuova opportunità o qualche nuova strada da percorrere per creare soldi. Devo dire che siete anche abili nel gestire quelli che già avete o se avete degli investimenti, insomma, non vi potrete lamentare nel mese di novembre. Devo dire che farete in modo da rimpinguare le casse, ecco. non vedo grossi flussi di denaro ma non vedo neanche grosse uscite, però è come se ci fosse una sorta di abilità e anche di nuovo inizio potrebbe essere anche qui magari qualcuno decide di iniziare un tipo di investimento o si decide per fare quel determinato progetto e quindi anche lì c'è come un mettere per espandere. Se parliamo del vostro stato psico emotivo nel mese di novembre devo dire che vi sento sereni, vi sento forti. Si parte con la carta della forza, è vero che finiamo con un 3 di bastone al contrario ma è una carta più legata ai progetti, alle questioni lavorative, al dove vado perché c'è ancora qualcosa da lasciare indietro. È vero che si inizia con un 10 di spade e la carta della morte però certe volte siamo talmente abituati ad accollarci delle responsabilità che togliercele non ci sembra quasi neanche giusto. Qualcuno potrebbe sentirsi in colpa. Invece si tratta di diciamo condividere quello che è il vostro tempo, le vostre risorse con chi vi sta vicino, farlo nel migliore dei modi e riservare una piccola quantità di energia anche per voi. Diciamo che se noi sappiamo come ricaricarci sappiamo anche quando abbiamo raggiunto il limite dobbiamo sapete low battery siamo in riserva e dobbiamo correre ai ripari a ricaricarci e come trovare un giusto equilibrio tra quello che diamo fuori e quello che diamo dentro di noi. comunque devo dire ragazzi che vedo dei nuovi inizi è come se ci fosse un rinnovato entusiasmo vedo tanti assi ci sono anche assi 1 ci sono delle opportunità effettivamente che potrebbero arrivare o delle iniziative nuove a cui potreste partecipare magari se effettivamente questo sole rappresenta la vostra poca chiarezza o attenzione perché per qualcuno potrebbe far riferimento all'ingenuità ed è per quello che abbiate qui anche un otto di coppe che vi dice guardate le cose da un punto di vista più ampio guardate le cose dall'alto ok però sostanzialmente è un mese come di nuovi inizi di una nuova grinta di un qualche cosa che si espande è una bella lettura eh amici del capricorno va bene andiamo a vedere Osho che cosa vi dice che cosa vi consiglia intensità e il matto il matto è una carta che si ripete ce l'avevate già qui ah no ce ne sono due intensità è un cavaliere di bastoni che avevate già qui e qui abbiamo il condizionamento aspettate la limita al contrario come li ho letti in questo caso il condizionamento è la carta del diavolo fate attenzione agli impulsi fate attenzione a reagire troppo impulsivamente prendetevi un tempo per fare i vostri esami del caso perché qui comunque è vero che il diavolo fa riferimento al potere personale di qualcuno ma fa anche riferimento a quello che egoicamente ci condiziona le ideologie le credenze limitanti gli obiettivi troppo ambiziosi magari però comunque al di là di questo sento che è un buon mese ragazzi è proprio un buon mese per iniziare nuovi percorsi per abbracciare nuove iniziative da un punto di vista emotivo vi dico lo sento abbastanza sereno potrebbe esserci qualche tema un po' spinoso da affrontare forse con qualcuno vicino a voi che potrebbe appunto essere vicini famiglia o amici però a parte quello devo dire che è un bel mese bene amici del capricorno fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video per iniziare un percorso di crescita con me invece vi basterà scrivermi un email io poi vi manderò una lettera dove vi spiego come funziona se invece volete andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale la sezione degli abbonamenti tratta temi di metafisica di esoterismo parla di astrale di energie sottili di chakras terzo occhio insomma è un po' un insieme di tutto quello che ho studiato io in più di 25 anni riordinato in modo che sia più semplice per voi diciamo seguire il filo del discorso piuttosto che apprendere più cose possibili se vogliamo in minor tempo bene comunque i titoli dei video sono visibili sono pubblici potete comunque guardarli sono le playlist con le copertine lilla detto questo vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao